Take it easy, arriva a Twizy Cargo e trasportare oggetti diventa un gioco da ragazzi. Ronald Twizy Cargo è la compagna ideale per il lavoro di aziende e professionisti specializzate in consegni o interventi rapidi. Può essere personalizzata con ogni tipo di sticker e loghi diventando così un vero veicolo di comunicazione e rendendo l'azienda innovativa e cool. La consegna a domicilio diventa più facile, diventa più rapida per il fornaio, per il pizzaiolo e per chiunque abbia un'attività di ristorazione ma anche per chi effettua servizi di emergenza o per chi trasporta corrispondenza o pacchi postali. Twizy è agile come uno scooter, si districa facilmente nel traffico, si parcheggia ovunque ed è molto sicura perché dispone di equipaggiamenti degni di un'automobile tradizionale con un abitacolo protettivo, cintura di sicurezza 4 punti e airbag. Frutto della collaborazione tra Renault Tech e Renault Sport Technology, Twizy Cargo offre il grande vantaggio di un vano bagagli di una capacità di 180 litri ed una portata di 75 kg accessibile grazie ad uno sportello posteriore che si apre a 90 gradi e che si chiude a chiave. La trasformazione in veicolo commerciale è stata consentita con l'eliminazione del sedile passeggero. Lo scorrimento del sedile anteriore è preservato e lo sportello è equipaggiato con un sistema di chiusura bloccabile tramite la chiave di compatto. Disponibile sia in versione 45 che in versione 80, i prezzi partono da 6.400 euro, IVA esclusa. Take it Twizy con Twizy Cargo. Grazie. 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 Grazie.